Bene, buongiorno a tutti e a tutte, porto il saluto della segreteria della Ui del Trentino, è un piacere essere qui oggi e io personalmente sono orgogliosa di vedere quattro ragazze, quindi come dire, finalmente c'è spazio perlomeno all'interno dell'università per le donne, poi nel mondo di lavoro un po' meno, però insomma diciamo che partiamo bene e poi dopo speriamo che si vada avanti. Porto il saluto non solo della Ui, ma naturalmente a nome di CGL Cisle Will, ringrazio l'università e il rettore che ci ospita, è sempre per noi importante questa giornata che ormai da qualche anno insomma noi organizziamo, non è assolutamente per noi un'occasione retorica e rituale, ma è proprio un riconoscimento verso il valore della cultura e dell'istruzione e l'importanza che noi vogliamo dare al rapporto con l'università da un lato sicuramente con cui collaboriamo su molte iniziative, ma soprattutto al rapporto con il mondo dei giovani lavoratori e lavoratrici che non ancora lavoratori, diciamo i giovani laureati che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro, perché come tutti sanno insomma nelle organizzazioni sindacali c'è una certa difficoltà a riuscire a far conoscere, a far capire l'importanza del lavoro che noi facciamo e delle tematiche che noi seguiamo, in particolare al mondo dei giovani. Storicamente appunto noi abbiamo una sicuramente più presenza nel mondo degli iscritti più anziani diciamo così e nel mondo del lavoro quello tradizionale, siccome però non è più così, il mondo è cambiato ed evidentemente c'è una grossa fetta di giovani che si affaccia al mondo del lavoro o si cerca di inserirsi nel mondo del lavoro pur con parecchie difficoltà, è molto importante che il contatto con le organizzazioni sindacali ci sia anche per questa fascia giovanile quindi pensiamo che questa possa essere anche un'occasione appunto per conoscerci per cominciare a stabilire dei rapporti. Sicuramente è molto importante il fatto che le tesi di laurea che sono state selezionate come sempre dalla Commissione su diversi ambiti disciplinari sono legate al mondo del lavoro, toccano aspetti molto diversi che poi vedremo ma comunque insomma legate al mondo del lavoro perché evidentemente quello è il nostro riferimento. Come sempre la mattinata sarà organizzata in due parti, la prima parte appunto sarà legata alla premiazione delle quattro tesi che sono state selezionate e naturalmente verranno invitate a spiegare brevemente insomma il contenuto della tesi le laureate e la seconda parte invece della mattinata vedrà una tavola rotonda sul tema del Jobs Act e in particolare sul decreto 23 del 2015 che è quello appunto legato al contratto a tutele crescenti a partire da una tavola rotonda che vedrà il confronto tra giuristi e economisti quindi sarà anche interessante penso mettere a confronto visioni diverse e con la presenza della professoressa Carinci dell'Università di Milano che appunto ha pubblicato un libro esattamente su questo tema. Sapete che è stato un tema molto discusso non solo nel sindacato ma in generale nella nostra società il tema del Jobs Act che ha riformato il sistema del mercato del lavoro con anche come dire visioni controverse perché evidentemente non tutti i giudizi erano positivi ci sono state molte discussioni sicuramente in particolare c'è stata la questione del superamento dell'articolo 18 che è stato un po' ma non è l'unica evidentemente però insomma come dire è abbastanza sentita e quindi l'introduzione del nuovo contratto a tutele crescente ha cambiato un po' la visione storica che dalla legge 300 del 70 dal studio dei lavoratori era patrimonio del nostro diritto del lavoro. Sicuramente è una tematica complessa, ci sono molte contraddizioni che comunque emergono nella situazione italiana sicuramente da un lato c'è la necessità di introdurre maggior flessibilità per creare maggiore occupazione dall'altro lato però c'è la necessità di garantire la tutela dei lavoratori e quindi come dire sono esigenze che a volte vanno davvero in contrapposizione e che è difficile contemperare. Sicuramente l'intento del governo era quello di introdurre maggior flessibilità per creare maggiore occupazione poi magari vedremo insomma se è proprio quello che è successo o meno forse è un po' presto per dirlo però insomma come dire ecco ci sono sicuramente dei punti di domanda e dei punti di attenzione. Non è come dire è da molto tempo insomma che si discute su questo dualismo del mercato del lavoro insider e outsider chi è dentro già il mercato del lavoro ha delle tutele di un certo tipo in Italia anche insomma storicamente delle tutele importanti c'è però tutta la parte degli outsider cioè quelli che sono fuori dal mercato del lavoro che vorrebbero entrarci o che comunque fanno parte di quella sezione così frammentata del mercato del lavoro che è stata introdotta negli ultimi dieci anni con la creazione del lavoro atipico che ha cambiato completamente il panorama ed evidentemente ha fatto sì che le tutele che storicamente avevamo conquistato sono se non andate perse comunque insomma sicuramente molto molto sfumate e faccio riferimento naturalmente non solo al contratto a tempo determinato ma al contratto a progetto eccetera 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 quindi noi con questo abbiamo a che fare è vero che il Jobs Act ha in qualche modo modificato questo panorama perché ad esempio il contratto a progetto di fatto insomma è superato quindi non esisterà più nel settore privato ricordo che il settore pubblico non è ancora stato regolamentato quindi in realtà negli enti pubblici noi abbiamo ancora i contratti di collaborazione coordinate continuativa probabilmente arriverà come dire la regolamentazione anche lì però insomma in questo momento siamo in sospeso rispetto a questa situazione e ce ne sono ancora molti per la verità quindi insomma è un problema risolto in parte ma non risolto del tutto l'altro punto di riflessione che io porto così per la discussione è questo appunto si è detto che con l'introduzione di maggior flessibilità legata al Jobs Act questo avrebbe dovuto favorire la ripresa dell'occupazione quindi maggiori assunzioni a tempo indeterminato che era come dire l'obiettivo che tutti si ponevano questo è stato vero sicuramente nel 2015 ma nel 2016 si assiste già a un calo delle assunzioni a tempo indeterminato del 33% molto probabilmente legato al fatto che se nel 2015 c'erano sgravi i contributivi di una certa entità perché erano pari 8.000 rotti euro nel 2016 sono stati abbassati a 3.250 euro per una durata inferiore, due anni invece che tre anni e quindi già solo nel primo trimestre si è visto questo calo del 33% che personalmente ritengo sia un segnale allarmante perché allora vuol dire che l'aumento di assunzioni a tempo indeterminato che abbiamo avuto nel 2015 era legato forse più agli sgravi che non alla modifica di legge non lo so spero di sbagliarmi però come dire insomma un punto di domanda su questo tema sicuramente secondo me rimane perché altrimenti come dire tutta la filosofia di fondo insomma viene a cadere quindi bisogna capire ma questo ce lo diranno naturalmente i giuristi e gli economisti da una parte o dall'altra se comunque insomma a lungo andare ci può essere questa ripresa dell'occupazione e della crescita dovuta alle riforme che sono state fatte un ultimissimo punto personalmente di attenzione e di preoccupazione che non c'entra molto ma come dire lo pongo perché va sempre all'interno del discorso del mercato del lavoro noi stiamo a discutere appunto dell'applicazione del job dei decreti attuativi dell'impatto che questo ha avuto eccetera eccetera e nel frattempo si vede chiaramente che c'è un utilizzo fuori controllo dei voucher che abbiamo scoperto dei dati sinceramente allarmanti da pochi giorni 1.360.000 voucher a Trento nel 2015 più di 2 milioni a Bolzano quindi insomma complessivamente 3 milioni erotti nella regione sicuramente i voucher non erano pensati per sostituire il lavoro subordinato erano pensati per lavoro occasionale, lavoretti, cose di altro tipo ma è evidente che cifre di questo genere fanno pensare che probabilmente invece vengono utilizzati per evitare di assumere lavoratori che fanno in realtà lavoro subordinato perché se no insomma non credo che tutti facciano giardinaggio, babysitter e cose di questo genere con questi numeri quindi la domanda se volete anche un po' provocatoria è noi ci preoccupiamo del Jobs Act ma nel frattempo stanno venendo avanti nuove forme di precarietà che sono ancora più precarie di prima perché i voucher anche rispetto al contratto progetto sono assolutamente meno tutelati meno controllabili, non danno garanzie di nessun tipo malattie, maternità, non se ne parla proprio quindi la preoccupazione è che come dire trovata la soluzione a un problema se ne apre uno molto più grande io credo che insomma bisognerà fare una riflessione approfondita anche su questo tema perché se no evidentemente rischiamo che i benefici che in qualche maniera potevano arrivare appunto da ad esempio soppressione dei contratti progetti eccetera vanno vanificati da questo ulteriore elemento questa non è flessibilità, questo è proprio far west come dire nel senso che no, non c'è nessun controllo e nessuna regolamentazione quindi personalmente lo vedo con parecchia inquietudine come dico è un discorso un po' a margine però insomma nel quadro generale c'è anche questo e credo che dobbiamo comunque tenerne conto per evitare appunto che è risolto il problema da una parte si crea l'abuso dall'altra parte e ricominciamo da capo quindi questo è un po' il quadro generale non entro nel merito poi perché insomma ci sono persone molto più preparate di me per farlo quindi mi fermo qua, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti buon lavoro ma procediamo da soli nel programma bene allora buongiorno, bentrovati, benvenuti a tutti nella nostra università gli ospiti, naturalmente congratulazioni alle nostre studentesse in questo caso non voglio sottolineare il fatto che sono tutte donne perché se fossero tutti uomini nessuno lo noterebbe no no lo noteremo diremo ma come tutti uomini ma non so quanti, non so quanti lo noterebbe quindi è normale così beh insomma questa è una bella occasione io per me anche lo dicevo prima a qualche collega è anche un'occasione storica perché io sono stato per un po' di anni preside all'allora facoltà di economia e dal 2007 mi capitava di venire a questa cosa poi ho cambiato mestiere, mi sono ritrovato a farla e mi trovo adesso nel 2016 quindi forse la decima, undicesima volta che mi capita forse senza interruzioni quindi mi fa molto piacere fa molto piacere perché questo per noi non solo è una bella occasione anche di rapporto con le organizzazioni sindacali è una bella opportunità per i nostri studenti è un'occasione per far vedere che l'università le persone dentro l'università nei vari ruoli concorrono a produrre conoscenza molta consapevolezza su grandi temi e il lavoro è sicuramente un grande tema se non il grande tema ma anche perché proprio il tema del lavoro è per noi un tema centrale nell'università il tema dell'occupabilità dal nostro punto di vista perché noi poniamo il tema del che cosa succederà dopo ai nostri studenti al centro della nostra attenzione e dei nostri obiettivi dall'altro lato è un grande tema per chi se ne occupa nella ricerca perché comunque cerchiamo di contribuire mi pare che le cose che ci stavamo dicendo adesso non mostro di contribuire con la ricerca a capire come la società organizza le cose come funzionano e dall'altro lato la ricerca che l'università produce in tanti campi cerca di contribuire allo sviluppo economico e quindi a creare lavoro perché alla fine il lavoro viene perché c'è qualcuno che ha delle opportunità economiche per far lavorare le persone per produrre valore quindi per noi questo è un tema fondamentale ed è bello che abbiamo appunto ogni anno questa occasione per fermarci un momento in occasione anche della celebrazione del lavoro per fermarci un momento a riflettere su questo riflettere su questo rapporto e su questa importante cosa pare che un po' delle cose dette nell'introduzione che ho trovato molto acuta tocchino un po' i temi che ci stanno molto a cuore il tema del rapporto fra chi c'è nel mercato e chi non c'è e i nostri studenti quasi sempre non ci sono ancora nel mercato e quindi il nostro lavoro è proprio il lavoro di fare in modo che quel gradino che li separa dall'ingresso nel mercato del lavoro e un'occupazione soddisfacente sia il più basso possibile per loro devo dire che ieri abbiamo avuto la pubblicazione dei dati Alma Laurea sugli esiti occupazionali dei laureati e con soddisfazione ma mai sufficiente vediamo che la situazione nazionale la conosciamo e credo che il termine drammatica possa starci bene con percentuali di quel tipo sulla disoccupazione giovanile però insomma almeno possiamo dire che i nostri laureati riescono ad avere soddisfazioni occupazionali in tempi più rapidi della media nazionale e anche a retribuzioni devo dire direi significativamente mediamente più alte della media nazionale perché insomma la retribuzione media è direi significativamente più alta l'Italia purtroppo questo è un altro tema che secondo me sarebbe bello affrontare ha questo sistema per cui le retribuzioni di ingresso sono basse e molto appiattite cioè poco differenziate per qualifica, per capacità, per talento questo non è certo colpa vostra ma vuol dire che coloro che reclutano non distinguono da un punto di vista retributivo non distinguono significativamente da un punto di vista retributivo in base alla qualità delle persone al loro merito cioè non c'è una forte competizione sulla retribuzione a volte penso che ci sia una specie di cartello perché tutte le imprese fanno così io vado ad alcuni incontri in cui alcuni imprenditori si lamentano ah ma non ci sono ingegneri e dico ma strano perché noi insomma qualche centinaio all'anno cioè li facciamo credo che il Trentino assorba 300-400 ingegneri l'anno e poi scopriamo che gli ingegneri vanno a lavorare altrove magari oltre confine fino a quando lo si può ancora attraversare e naturalmente vanno e hanno retribuzioni significativamente diverse oltre che una loro percepita prospettiva molto diversa e dico ma perché non li pagate di più e no e allora dico io sarò anche un economista un po' datato ma mi ricordavo che c'è una legge la domanda e l'offerta se tu vuoi tante cose ce ne sono poco il prezzo dovrebbe salire eppure questo non succede però se ne lamentano e anche questo è un male perché questo non stimola poi non rende percepibile il valore della formazione della buona formazione non rende percepibile quanto vale per una persona investire nella propria formazione nella propria esperienza nella propria capacità di essere molto utile e poi dove va a lavorare perché il mercato inizialmente non te lo riconosce fortunatamente sappiamo che poi invece nel tempo questo cambia perché insomma i laureati le persone di talento hanno delle evoluzioni di carriera significativamente diverse dalle altre e quindi poi evolvono ma è chiaro che questo è poco percepito perché è molto più incerto allora questi sono un po' dei temi che è bello che rompiamo delle occasioni per discutere perché purtroppo appunto abbiamo un paese che è nella situazione in cui si trova dal punto di vista delle opportunità che stai dando ai giovani e è anche un paese che sta vedendo un esodo che non è una fuga non è una un'immigrazione come la chiamavamo una volta perché io sbirciando così anche sulle luoghi di nascita può darsi che ormai poi le residenze siano diverse i nostri nostri laureati qui ho notato quello che noto sempre nei nostri studenti che ormai tutti vengono da tanti posti e vanno in tanti posti perché viviamo nel mondo della mobilità e spostarsi non è più una sfortuna o una cosa che ti tocca fare con la valigia di cartone perché non avevi la pagnotta dove sei nato ma è semplicemente seguire un'opportunità allora questo è un mondo di grande mobilità e in questo mondo di grande mobilità noi sappiamo che i giovani si spostano vengono a studiare a Trento vanno a lavorare in Germania vanno a lavorare dall'altra parte allora in tutto questo sistema le regole nazionali ovviamente non sono più a sé stanti ma sono collocati in un sistema di mercato del lavoro molto più grande dove queste regole nazionali non solo funzionano bene qui ma devono in qualche modo funzionare bene e confrontarsi anche con mercati diversi e con regole diverse migliori peggiori più efficaci e quindi io credo che discutere di tutto questo e contribuire col lavoro di chi al massimo della velocità e dell'interesse a farlo che sono i ragazzi che studiano la nostra università sia una grandissima cosa e quindi grazie alle organizzazioni sindacali per voler tenere e ogni anno confermare questo impegno a dare valore con un premio il premio è un modo per dar valore e mostrare l'importanza dell'iniziativa al fatto che riflettiamo sul lavoro riflettiamo sul lavoro dal punto di vista del sistema normativo riflettiamo sul lavoro dal punto di vista del mercato riflettiamo sul lavoro dal nostro punto di vista su cosa noi possiamo fare perché per i nostri studenti per i nostri laureati l'accesso a quello che chiamiamo il mondo del lavoro cioè a ciò che devono fare dopo diventi sempre più facile dal punto di vista dell'opportunità che loro hanno più probabile dal punto di vista della possibilità di ottenere buone occupazioni e possibilmente sempre più allineato rispetto alle loro aspettative e alla loro formazione e alla loro qualità questo è quello che noi ci proponiamo di fare e credo che questa occasione sia una buona occasione per dire che lo facciamo lo cerchiamo di fare e magari anche pensare come lo possiamo fare meglio in un mondo che è in grande cambiamento non solo dal punto di vista normativo ma proprio dal punto di vista del mercato del lavoro la globalizzazione almeno a livello europeo almeno fino a qualche giorno fa pensavamo di non avere più confini e quindi questo cambia molto le condizioni ma fortunatamente e questo va detto per i giovani queste sono opportunità il paese deve riflettere su questo e quindi perché in realtà questo esodo che noi oggi vediamo ha saldo molto negativo per l'Italia di persone che vanno via di persone giovani che vanno via è per le persone un'opportunità e io credo che l'Europa di cui diciamo sempre tanto male perché sicuramente ha tanti difetti ma l'Europa da questo punto di vista ha dato alle persone grandi opportunità di potersi costruire una vita anche un po' fuori da dove sono nati ma è per il paese evidentemente un problema enorme perché se noi abbiamo persone e l'Italia ha persone giovani brave di qualità motivate che hanno gran voglia di fare come si dimostra anche oggi qui ma poi tutto questo lo disperdiamo al di fuori del nostro paese per il paese questo è un grande problema non è un problema per i giovani per loro è un'opportunità ma credo che per il paese sia invece un problema ed è nostra responsabilità lavorare per contribuire a capovolgere questa situazione che è dovuta non possiamo nascondercelo anche ai dati che noi vediamo perché è un mercato del lavoro dove il dualismo storicamente ha garantito un po' di più a chi c'era già e meno a chi non c'era evidentemente chi non c'era va a cercare qualcosa da qualche altra parte perché questo è il mondo che funziona quindi bene grazie credo che adesso non rubo spazio alla sostanza perché io faccio anche queste introduzioni quindi congratulazioni ancora e direi possiamo credo di dover anche portare i saluti del preside Nesi che di cui è prevista la presenza ma che non ha potuto poi esserci oggi che è il preside della facoltà di giurisprudenza e con questo quindi concludo grazie a tutti e bocca al lupo a voi soprattutto allora aspetta a me adesso il compito di presentare le premiate e sanno che hanno 5 minuti 7 minuti insomma per presentare il loro lavoro voi mi userete la cortesia siccome c'è troppo inglesismo di dire voi il titolo delle tesi vorrei evitare mi evitate brutte figure insomma ok e che questa non è in giapponese e che questa non è in giapponese sarei stato scusato di più credo allora io chiamo adesso la signora Serena Burrello vado in ordine alfabetico rispetto alla sua presentazione e poi alla prima azione grazie bravo buongiorno a tutti mi chiamo Serena Burrello e ho presentato un lavoro sulla valutazione della formazione e il ruolo dell'engagement e del clima organizzativo da dove è scaturito l'interesse per questo per questo studio diciamo la formazione si basa prettamente lo studio della nostra ricerca si basa prettamente sulla formazione alla sicurezza negli ambiti di lavoro infatti gli infortuni e le malattie professionali sono sempre più frequenti e numerosi studi ci hanno confermato che grazie alla formazione alla sicurezza questi possono diminuire infatti grazie all'articolo 37 del decreto legislativo 81-08 i datori di lavoro hanno dato sono obbligati a fornire una formazione in temi di sicurezza e di salute il core della nostra del mio studio di ricerca riguarda appunto quali come le determinanti possono influenzare il transfer of training da due definizioni per essere un pochino più precisa l'engagement è considerato come il coinvolgimento dell'individuo durante la formazione mentre il clima organizzativo è ciò che l'individuo percepisce nell'organizzazione in cui vive l'importanza della sicurezza quindi abbiamo valutato come l'engagement può influenzare il transfer of training ovvero la capacità dell'individuo di trasferire ciò che ha acquisito durante il corso di formazione e le attività lavorative e come anche come il clima il coinvolgimento il clima organizzativo possa influenzare questo questo trasferimento lo studio è stato svolto nella città di Bologna presso l'istituto professionale lavoratori dell'edilizia il do due dati insomma piccoli il campione era composto da 162 individui di genere diversi lo studio è stato prettamente concentrato su due tipologie di corsi di formazione con engagement differenti a medio e ad alto engagement abbiamo appunto valutato che la differenza dell'engagement nei vari corsi di formazione è fondamentale ovvero coloro che hanno partecipato a corsi di formazione ad alto engagement hanno una capacità di trasferire ciò che hanno acquisito maggiore rispetto a coloro che hanno partecipato a corsi di formazione a medio engagement la seconda ipotesi di ricerca riguarda il clima organizzativo come il clima organizzativo può moderare il coinvolgimento rispetto all'apprendimento ai comportamenti e alle relazioni questa seconda ipotesi di ricerca non è stata confermata ma ci siamo resi conto che era anche legato a un fattore di campione prettamente ma comunque numerosi studi anche nella letteratura diciamo che ci spronono a studiare maggiormente questo fattore concludendo e diciamo trasferendovi quello che io ho imparato studiando e facendo questa ricerca è appunto che la formazione è fondamentale sia per quanto riguarda la sicurezza ed è fondamentale che i datori di lavoro anche se inizialmente può essere un dispendio economico maggiore debbano investire parecchio sulla formazione sia dei dipendenti ma non solo nel senso anche di se stessi in modo tale da diminuire non solo gli importuni ma anche malattie professionali e soprattutto informare i lavoratori di quello a cui possono andare incontro nel caso in cui non dovessero venire a conoscenza di quello che sono queste tematiche questo è un po' il riassunto del mio lavoro grazie per la sintesi io adesso è giusto ringraziare anche i componenti della commissione giudicatrice poi vengo veniamo a dare il premio Paolo Barbieri Matteo Borzaga Stefania Brun Ermanno Celeste Tortia spero di pronunciare giusto di non sbagliare gli accenti e Franco Fraccaroli che ovviamente hanno contribuito rispetto alle scelte grazie ancora grazie allora adesso diamo la parola a Eleonora Cerea grazie buongiorno colgo anche io l'occasione per ringraziare sicuramente i sindacati e la commissione giudicatrice visto che sono molto contenta anche un po' emozionata di essere qui oggi a presentarvi i punti chiave della mia tesi per questioni di tempi io mi sono laureata il mese scorso in studi europei e internazionali e ho svolto una tesi di laurea magistrale dal titolo Labour Migration Governance in the European Union Reaping the Fruits of a Decent Seasonal Work in particolare ho affrontato lo studio dei lavoratori migranti diretti verso l'Europa soffermandomi sui lavoratori stagionali nel contesto nel settore agricolo perché ho ritenuto che siano i lavoratori che si rispondono a maggiori bisogni di un lavoro flessibile e dinamico appunto attraverso le loro migrazioni per lavoro temporane ma anche siano le maggiori vittime della precarietà e dell'insicurezza dovute appunto alla stagionalità e alle caratteristiche del settore agricolo e quindi brevemente esponendo i contenuti posso dire di aver fatto un quadro normativo europeo a proposito del tema per poi addentrarmi in due casi studio che rispondono ai paesi in cui ho svolto le mie ricerche quindi sicuramente l'Italia e la Francia e quindi secondo un'analisi multilivello mi sono poi concentrata sui casi regionali del Trentino e della Provenza cercando di trovare una chiave comparativa e in questa occasione però più che sui contenuti mi piacerebbe un po' esporre i nuclei tematici del mio lavoro che sono stati appunto sicuramente la centralità del lavoro del lavoro della terra in questo caso visto come una appunto coltivazione diretta a uno sviluppo non solo rurale ed economico ma soprattutto sociale e umano infatti ho associato poi il lavoro al movimento quindi come si diceva la mobilità la circolazione proprio per sottolineare come spesso il lavoro sia soprattutto per questi migranti e per chi si sposta per cercare lavoro altrove sia come risultato di una ricerca personale anche come un creatore di identità in un certo senso e quindi ho voluto sottolineare come questa circolazione delle persone sia riguardo di persone che cercano un posto più appagante e realizzante dove svolgere la propria attività lavorativa e quindi trovare ricchezza non solo materiale ma appunto anche umana come terzo punto mi sono concentrata quindi il lavoro il movimento e il terzo punto è sicuramente il bisogno di cooperazione e dialogo anche sinergia tra i vari attori non solo quindi datori di lavoro e lavoratori ma anche nel contesto più ampio quindi l'importanza di offrire valutazioni non solo politiche giuridiche ma anche appunto economiche sociali e culturali nel gestire al meglio questo fenomeno dei flussi umani e quindi l'importanza anche di considerare all'unisono sia i standard dei principi europei internazionali e le leggi nazionali ma anche alla luce dello studio della storia la storia delle tradizioni del territorio di provenienza e di accoglienza ma anche la storia di vita di queste persone e quindi anche lo studio delle relazioni interpersonali che si creano giorno per giorno nel territorio locale regionale anche grazie appunto all'attività di attori governativi e non governativi infatti riporto il caso del Trentino come ancora una volta come esempio virtuoso diciamo di questa creazione di fiducia tra gli interessati tra lavoratori e attori di lavoro e anche di cooperazione tra l'ente pubblico e il settore privato e sociale quindi infine volevo concludere invece con un ultimo punto che ritorna alla dimensione più ampia che è quella dell'Europa quindi l'Europa presente ma anche che verrà o meglio l'Europa che vorrei che emergesse da questa crisi che appunto non è solo economica e finanziaria ma soprattutto anche un po' identitaria e di legittimità soprattutto al giorno d'oggi appunto in cui si parla più di confini in senso diciamo esclusivo più che inclusivo nei confronti dell'altro diciamo così e quindi vorrei sottolineare come sia importante che proprio al giorno d'oggi si tenga conto di insomma offrire una protezione di creare appunto una cura una protezione non solo di chi abita l'Europa ma anche di chi semplicemente la attraversa come nel caso dei lavoratori stagionali o chi vi trova a rifugio come appunto sentiamo ultimamente per le crisi umanitarie e infine appunto sperando di non sembrare troppo retorica vorrei offrire una metafora che ho voluto far emergere dalla mia tesi cioè quella di vedere un po' l'Europa come un suolo un terreno fertile reso fertile da una gestione di questi flussi umani in maniera appunto coerente e benefica per tutti gli attori coinvolti e quindi che dia un raccolto un seme ricco basato su sullo sviluppo umano e sul lavoro dignitoso quindi sperando di non essere stata troppo generica ringrazio ancora tutti quanti per questo colpito grazie brava e ancora tutto grazie grazie bene grazie adesso chiamiamo Francesca Fiore grazie eccoci qua speriamo di non fare danni col microfono buongiorno a tutti e a tutte e appunto sono Francesca Fiore e mi sono laureata nel corso magistrale gestione delle organizzazioni al dipartimento di sociologia e al tempo stesso faccio parte delle persone fortunate che appunto hanno avuto anche un'occasione oltre confine e infatti ho affiancato al mio percorso di studio in Trentino diciamo anche un master in Svezia il master si chiamava Leadership for Sustainability e in questo caso appunto ho avuto un modo di approfondire i temi della sostenibilità non solo intesa in termini diciamo ambientali come gran parte delle persone pensano ma implementando ovviamente anche tutte le peculiarità che può avere sia nel campo sociale che economico quindi tutti i risvolti che ci possono essere in questo caso ho avuto modo di interessarmi alle imprese sociali quindi alle social enterprises e soprattutto alle persone che le fanno andare avanti quindi tutti gli stakeholder fondamentali interni in particolare quindi i dipendenti dunque personale stipendiato ma anche volontari e tutta la comunità che comunque è diciamo obiettivo primo delle proprie imprese sociali nel senso che il loro obiettivo fondamentale è quello di sviluppare dei benefici che vadano anche proprio a tutta la comunità attorno e quindi il profitto economico è un mero strumento per far sì che questo accada questo fa sì ovviamente che anche la comunità debba essere molto più coinvolta rispetto magari a una società con solo obiettivi di profitto e quindi in questo caso mi sono interessata proprio anche alle peculiarità della partecipazione quindi cosa muove le persone a partecipare cosa mette insieme persone stipendiate e non stipendiate spesso a fare le stesse mansioni quindi in questo caso valutare sia le opportunità di avere un personale o comunque persone coinvolte tanto differenziate quanto al tempo stesso alle sfide che questo può generare e in particolare appunto la tese è stata sviluppata su due casi principali diciamo due paesi e quindi ho messo a confronto Italia e Germania e questo mi ha dato anche modo un po' di capire le differenze che ci possono essere sia in termini legislativi che proprio anche in termini di sviluppo rispetto ai progetti che vengono portati avanti direi che questo è un preassunto grazie grazie a tutti adesso abbiamo l'ultimo intervento di Silvia Vaccari prego grazie buongiorno a tutti sono Silvia Vaccari mi sono laureata questo marzo qui a giurisprudenza contesi dal titolo organizzazione e tempi di lavoro nel sistema giapponese la mia tesi è il frutto di una ricerca svolta a Tokyo quest'inverno sono stati tre mesi durante i quali sono stata ricercatrice alla Chuo University di Tokyo e ho anche potuto condurre una parte rilevante della mia ricerca all'interno di un'azienda giapponese la Komori Corporation all'interno della quale ho fatto appunto delle interviste al general manager delle risorse umane e a un campione di alcuni lavoratori e la ricerca che ho svolto è stata divisa sostanzialmente in due parti una parte molto teorica che diciamo voleva mettere in luce quelli che sono stati momenti storici salienti che hanno portato allo sviluppo del modello produttivo giapponese infatti questo è l'oggetto principale della ricerca ovvero il modello produttivo giapponese e in particolare i fattori organizzativi di questo modello che influenzano gli orari di lavoro e soprattutto la così nota tendenza giapponese al sovralavoro quindi dopo aver analizzato appunto i momenti storici che hanno caratterizzato questo modello produttivo ho passato appunto a fare uno studio approfondito di tutta la legislazione che riguarda il sistema giuslavoristico giapponese concentrandomi appunto in particolare sugli orari di lavoro e sul sovralavoro scoprendo come in realtà la stessa visionomia della normativa giapponese ovvero il suo essere estremamente flessibile ed erogabile abbia portato a un tipo di modello produttivo del genere e soprattutto alla permissione diciamo di questo tipo di orario di lavoro estremamente elastico la seconda parte della mia ricerca è la parte più pratica è la parte che descrive innanzitutto le generalità dell'azienda dove ho potuto fare le mie interviste la Comori Corporation che è un'azienda leader nella produzione di macchine da stampa ne descrive il modello produttivo che è denominato Kando e è un'emanazione del modello Toyota con un particolare attenzione alla soddisfazione del cliente e dopodiché sono state riportate tutte le interviste appunto che sono state effettuate all'interno di questa azienda sono state queste elaborate cercando di mettere in luce i fattori della produzione ma anche fattori che si sono scoperti essere essenzialmente culturali e sociali che condizionano l'orario di lavoro e decidono diciamo questa volontarietà del lavoratore a effettuare ore di straordinario e ore nei giorni di riposo la tesi si conclude con una personalissima opinione su come si possa fare per ridurre questo orario di lavoro senza però andare a intaccare quello che è le modalità di svolgimento della mansione a cui il giapponese medio è abituato che evidentemente non possono essere modificate e quindi è una soluzione che ha come primo obiettivo quella di aumentare la produttività del singolo lavoratore e che ha solo come conseguenza quella di diminuire l'orario di lavoro questo era il riassunto della tesi io devo ringraziare il mio relatore Luca Nugler che mi ha permesso di andare in Giappone e anche e soprattutto il professor Kezuka che è qui è un professore che mi ha seguito in Giappone sono molto contenta che sia qui grazie a tutti grazie rettore Collini rettore Collini vuole dire due parole prima di questa premiazione grazie prego lo dico in inglese per l'hospite io voglio ringraziare professor Kezuka per essere qui oggi e siamo molto honore di averlo a nostra università e voglio ringraziare per la contribuzione per il lavoro di Silvia e per la collaborazione che abbiamo tra le due università che spero che sarà migraziare molto presto in futuro grazie per il tuo tempo e per l'opportunità di avervi in Trento grazie a tutti grazie a tutti facciamo la foto tutti assieme grazie a tutti le quattro grazie grazie a tutti grazie a tutti